vetrate scorrevoli motorizzate sono scure ciao sono william bisacchi di infissi bisacchi dal 1973 ci occupiamo di infissi per abitazioni private con il sistema bisacchi e siamo proprio specializzati nelle vetrate scorrevoli e negli ultimi anni anche nelle vetrate scorrevoli motorizzate che è un tipo di serramento che ha preso molto piede perché nelle aperture le aperture diventano sempre più grandi i vetri diventano sempre più performanti si è passato a un vetro doppio che era sufficiente ma nella stragrande maggioranza dei casi ora in tantissime zone d'italia per le nuove normative a partire dal 2020 è necessario andare in un vetro trip poi si è passati da un vetro normale a un vetro antisfondamento perché cresce sempre l'esigenza di sicurezza e anche perché in queste grandi vetrate scorrevoli spesso esternamente non è installato nessun tipo di schermatura solare quindi non c'è una tapparella non c'è uno scurone e sei proprio praticamente subito in relazione con l'esterno quindi sistema d'allarme e vetri blindati tutti questi pesi sopra una vetrata scorrevole iniziano a essere un po pesanti da movimentare e anche non troppo sicuri dal punto di vista diciamo così perché una volta che questa finestra è stata fatta partire è stata fatta scorre lei continua la sua corsa e movimentare 4-5 kg può essere qualcosa di fastidioso se magari dall'altra parte di là c'è un adulto o un bambino e sta vetrata gli va addosso insomma con la versione motorizzata di queste vetrate si vanno ad eliminare tutti questi problemi perché basterà un pulsante o un impronta digitale o un comando dal proprio telefono se si fa un impianto domotico quindi col proprio smartphone o il proprio tablet per aprire e per chiudere vetrate quindi potrei aprire tutta la casa chiude tutta la zona e tutta tutta la casa oppure potrei anche installare un banalissimo e assistente vocale potrei dire alessia aprimi di 50 centimetri la vetrata del soggiorno oppure alessia aprimi per 5 minuti la vetrata della camera in modo da cambiare aria poi chiudila ecco tutte queste cose che sembrano fantascientifiche con una vetrata scorrevole motorizzata possono diventare realtà certo per poter creare progettare e attuare degli impianti del genere è necessaria una consulenza preliminare perché non sono cose semplici da trattare e sono anche argomenti poco conosciuti proprio per questo ho ideato il servizio di consulenza con sistema bisacchi per aiutare magari chi come te è lontano dalla bisacchi e non posso aiutarlo direttamente con la fornitura diretta dei nostri serramenti ma posso aiutarti a trovare quale sono le soluzioni migliori su vuoi sapere di più vai su www.blogbisacchi.it e richiedi la tua consulenza personalizzata ciao e al prossimo video